Nel video di oggi sarò la bambina più bassa di tutta la scuola e ovviamente i bulli mi prenderanno di mira Ma io, grazie all'aiuto di alcune persone, riuscirò a farmi valere, ma iniziamo subito con il video Ma ciao a tutti amori e benvenuti in questo nuovo video! Io come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche Ehi Giorgia, hai mai pensato di giocare a basket sui trampoli? Lasciatemi stare, non sono in vena di battute Ma dai, con quell'altezza come può fare? Nemmeno con i trampoli sarebbe abbastanza alto, è praticamente invisibile sul campo Non è vero, io penso di poter giocare come tutti gli altri solo perché sono bassa, non vuol dire che non possa farlo Ah certo, infatti vedrai che oggi ti escluderanno in palestra Non potrete saperlo, non è detto Guarda che lo sappiamo e come, chi vorrebbe squadre qualcuno che nemmeno si vede? Basta smettetela con queste cattiverie, non vi ho fatto nulla di male per riceverle Solo perché sono bassa e quindi... Oh poverina, si offende pure! Siete solo delle bulle e quello rimarrete Vedremo chi è davvero una bulla quando rimarrà in panchina oggi Vabbè suonate la campanella, vado in palestra, meglio che stare in mezzo a queste due vipere Ok ragazzi, formiamo le squadre Io prendo Luca Allora io prendo Marco C'è il Goanna Ehm, Giorgia? Oh no, grazie, prendiamo qualcun'altro Ma sei pazza? Sì, ragione lì, è troppo bassa per giocare Ma Giorgia può giocare quanto a voi Beh, preferiamo avere qualcuno più all'altezza Va bene, Giorgia aspetta in panchina per ora Uffa, non lo trovo affatto giusto, devo aspettare in panchina Lo trovo abbastanza umiliante, non lo trovate anche voi Lasciate mi piace se siete d'accordo con me Giorgia, posso parlarti un attimo? Che cosa c'è, professore? Cosa vorrà dirmi? Non devi abbatterti, non sei esclusa perché non sei brava Ma perché loro non sanno cosa significa giocare come una squadra Ma mi hanno esclusa solo perché sono bassa Professore, non è una cosa normale L'altezza non determina il valore di una persona, tantomeno il tuo talento Ma se per questo non mi sento tanto forte Mi prendono sempre in giro e mi stanno quasi convincendo che io faccia schifo nel basket Ti capisco, ma tu hai il potenziale per essere una giocatrice incredibile Devi solo crederci Non lo so, mi sento solo triste Vengo sempre derisa per la mia altezza E guarda caso per il basket bisogna essere sempre considerati altri per giocare E io invece sono bassa Non arrenderti, a volte le persone più piccole sono quelle che sorprendono di più Ti proverò professore Ci conta Giorgia Ed è finita anche questa giornata di scuola Adesso corro a casa L'unico posto in cui non sono giudicata per la mia altezza Ora racconterò tutto alla mamma Spero che mi possa rallegrare un pochino E dammi anche qualche consiglio Mi raccomando ragazzi Se anche a voi dovesse capitare una cosa del genere Avvisate subitissimo i vostri genitori E anche i vostri insegnanti Giorgia, perché sei così giù? Cosa è successo a scuola? Mi prendono di mira mamma Dicono che sono troppo bassa per giocare a basket Oh tesoro, non devi ascoltare quelle persone Sei perfetta così come sei Ma mi escludono sempre E non vogliono che giochi Tipo oggi sono rimasta in panchina È stato veramente frustrante Le persone possono essere crudeli a volte Ma devi essere forte Hai talento e loro non lo capiscono Al contrario Non mi sento affatto forte E senza farmi giocare Penso che mi stiano veramente convincendo Chi sia scarsa nel basket Ricordo I grandi successi non dipendono dall'altezza Ma dalla determinazione Non farti convincere che non vali da nessuno Lo so mamma Ma fa comunque male Ogni giorno vado a scuola E quelle bulle Mi prendono di mira Solo per la mia altezza Ma io che colpa ne ho di essere basso Andrà tutto meglio Te lo prometto tesoro Grazie mamma Lo spero Proverò a non pensarci Sei forte Non dimenticarlo mai Puoi fare tutto ciò che vuoi Non farti mettere dei limiti da quelle lì Perché non decidono loro per te Parlando un po' con la mamma Mi ha fatto stare molto meglio Adesso vado un po' in camera E poi faccio i compiti Oddio ragazzi E voi quanti compiti avete per domani? Magari scrivetemelo nei commenti Spero non troppi Guarda chi è tornata La nonnetta Giorgia Ovvero l'esclusa Sì la ragazza invisibile Ho sentito tutto No prof Non è come sembra Noi scherziamo Oggi voi due non giocherete Non permetto che si derida a una compagna in questo modo Ma prof Non è giusto Sì stavamo solo scherzando Prendere in giro qualcuno Non è uno scherzo Imparate a rispettare i vostri compagni Ops E si guarda una volta tanto Che odio Ok già già Oggi voglio che tu dia il massimo E il tuo momento Ma se non ci riesco E se dovessi fare una figuraccia davanti a tutti Oh mio dio le bulle non mi lascerebbero più in pace Non pensarci Gioca per te stessa Non per gli altri Che cosa intende professore Non devi dimostrare niente a nessuno Sei già abbastanza Ehm ci proverò prof Grazie Brava Dacci dentro adesso Sì ce la metterò tutta Devo farcela anche perché già mi prendono in giro per l'altezza E se fallisco pure qua mi prenderanno in giro pure per questo Non posso permetterlo Questo è lo spirito ora vai e divertiti Certo lo farò Giorgia grazie mille Senza di te non avremmo mai vinto Non è vero Eravate bravissime Solo ho dato una mano No su serio Hai fatto canestro nei momenti più importanti Non pensavo di riuscirci Ero troppo nervosa Tra l'altro pensavo tutto il tempo a quelle due bulle Però per fortuna sono riuscita a fare una bella partita Hai dimostrato a tutti che l'altezza non conta Quando ci metti la passione per ciò che fai Sono davvero stracontenta che abbiamo vinto Commetto che le bulle ora la smetteranno di infastidirti Ma guarda lo spero davvero È stata dura con loro addosso ogni santo giorno Non preoccuparti ora siamo tutte dalla tua parte Grazie mi fa davvero piacere sentirlo Non avete idea di come sia brutto essere sempre soli E anche presi di mira Hai mostrato che non ti arrendi mai È una grande qualità Non l'avrei mai fatto senza il sostegno di tutti voi Compreso il professore A proposito del professore Devo assolutamente andare a ringraziarlo Andiamo subito in palestra Senza di lui Probabilmente non avrei fatto ciò che ho fatto Dovvero vincere O almeno dai diciamo Aiutare a far vincere la partita alla squadra Eccolo lì Professore volevo ringraziarlo Se non fosse stato per lei Non ce l'avrei mai fatto Non devi ringraziare me Già già sei stato tu a metterci l'impegno Sì ma senza il suo incoraggiamento Avrei sicuramente mollato E adesso quelle bulle Mi starebbero ancora prendendo in giro Io ti ho solo dato un piccolo spunto Il merito è tutto tuo Mi ha fatto capire che potevo essere forte Anche se non me ne rendevo conto Anche se sono piccolina Arbastina Ce l'ho fatta E tu hai dimostrato a tutti quanto sei capace Mi ha dato fiducia quando nessun altro lo faceva A parte mia mamma ovviamente Era solo questione di tempo La fiducia che ti mancava era già dentro di te Non so davvero come ringraziarlo abbastanza Voglio solo vederti continuare a dare il meglio di te ogni giorno Lo farò lo prometto professore Sei un esempio Georgia Non lasciare che nessuno ti faccia credere il contrario Bene adesso vado in bagno a cambiarmi Che è ancora tutta questa roba sudata Ancora addosso Che schifo Complimenti Georgia Grazie a te non abbiamo potuto giocare oggi Sei proprio una rovina divertimento Scusate ma non è colpa mia Se vi comportate male Prendete in giro le persone Ah sì Chi ti credi di essere piccoletta Lasciatela in pace Ha dimostrato di essere più forte di voi E chi sei tu per dirlo Sono quello che ha visto Georgia dare tutto in campo Mentre voi sapete solo sparlare Non è affar tuo Vattene No è affare di tutti Quando trattate male qualcuno Solo per sentirvi superiori Ma non ci conosci nemmeno Conosco abbastanza E so che Georgia è molto più in gamba Di voi due messi insieme Andiamo Non ce n'è non ne vale la pena Perdere tempo Wow Oh mio dio Grazie mille Per avermi difeso Non dovevi farlo Non c'è di che Qualcuno doveva farle smettere Mi ha davvero sorpreso Non capita spesso Che qualcuno mi difenda Anzi Sono sempre quella Presa di mira da tutti Però mi ha fatto davvero molto piacere Beh lo meritavi Hai giocato alla grande oggi Ah sì Hai visto la partita? Sì E devo dire Che hai un talento incredibile Wow Oh grazie Non me lo sarei mai aspettato Hai portato la squadra alla vittoria Non è da tutti Non avrei potuto farlo Senza l'incoraggiamento Del prof e degli altri Forse Ma il merito principale è tuo Sono davvero felice Ma tu Come ti chiami? Io sono Lorenzo E tu continua così Georgia Hai un futuro nel basket Ragazzi Sto quasi iniziando a crederci Oh E' suonata la campanella Ciao Lorenzo Io devo tornare a casa Devo raccontare assolutamente Tutta mia mamma Questa giornata è stata fantastupenda Mi raccomando ragazzi Se non lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Mamma non ci crederai mai Oggi è stata una giornata Incredibilmente fantastupenda Davvero? Raccontami tutto Ho giocato a basket E indovina Ho fatto vincere la squadra Ho ricevuto anche un sacco di complimenti Sia dal professore Che da un mio compagno di classe Poi vabbè le bule Lasciamole perdere Che meraviglia Sono così fiera di te tesoro E non è tutto Un ragazzo mi ha difesa dalle bulle Mi ha detto che sono forte Che ho un talento nel basket Ma chi l'avrebbe mai detto? Oh wow Ma è bellissimo Vedi le cose stanno migliorando Non avrei mai pensato Di poter fare qualcosa del genere Hai dimostrato tutti quanto sei in gramba Lo sapevo Che ce l'avresti fatta Se non fosse stato per il prof Non avrei avuto il coraggio di farlo Il tuo prof è davvero una grande persona Devi ringraziarlo Lo ringraziate come Ma sono anche molto felice Di avere te accanto a me Mi hai aiutato molto anche tu E io sarò sempre qui A supportarti in tutto Non dimenticarlo mai Bene mamma Dopo tutta questa giornata di scuola Ho bisogno di un po' di svago Andrò a giocare un pochino a Roblox Qual è il vostro gioco di Roblox preferito? Scrivetelo nei commenti Non ci crederete mai Oggi sono finalmente contenta di andare a scuola Anche perché sto giocando a basket E sono anche molto brava E tutti lo stanno riconoscendo E finalmente non mi prendono più in giro per l'altezza Anche le bulle Pare che si siano calmate Almeno credo Ecco mi è arrivata a scuola Guarda che arriva Alla piccola campionessa di basket Sì ma oggi non avrai la stessa fortuna E io no Parli del diavolo Che cosa volete adesso? Solo farti capire che qui Comandiamo ancora noi E per farlo Dovrei sparire per un po' Ma che cosa state facendo? Lasciatemi in pace Oh no cara Non finché non avrei imparato la lezione Ma non potete farmi questo È sbagliato Sbagliato è che trucca da di poterci superare Adesso entra in questo bagno Non rimarrò qui finché non avremo finito con te No no per favore Dirò tutto a mia mamma e ai professori Provaci Vediamo Chi ti crederà No no ragazzi Non ci posso credere Mi hanno rinchiusa qui dentro Sono così contenta Che finalmente Venivo apprezzata da qualcuno E adesso loro mi chiusono qui È la cosa peggiore che mi sia mai capitata E adesso come faccio ad avvisare qualcuno Non ho neanche il telefono E la porta di questo bagno è chiusa Aiuto Ma perché? Solo perché sono bassa Non ho un cavolo di senso tutto questo Prano? Georgia non è mai in ritardo per la lezione Sì Oggi non l'ho vista neanche fuori scuola Di solito è sempre pronta per la partita Sai se le è successo qualcosa? No Non mi ha detto niente ieri Era felicissima dopo la vittoria Forse sta solo poco bene Speriamo non sia nulla di grave Ma lei non manca mai a scuola È strano davvero Con tutte le difficoltà che ho superato ultimamente Non mi piace questo silenzio Forse dovremmo controllare se è tutto a posto Hai ragione Vado a chiedere se qualcuno l'ha vista questa mattina Se serve posso fare un giro della scuola per vedere se è qui Va bene ma torna presto qui se non la trovi Certo non ci metterò molto Aspetta ma c'è qualcuno qui dentro? Oh mio dio sono qui Ti prego aiutami Finalmente è arrivato qualcuno Georgia cosa ci fai chiusa nel bagno? Quelle cavolo di bull Lei mi hanno rinchiusa qui Non ci posso credere Aspetta ti tiro fuori Oddio grazie finalmente Pensavo di rimanerci tutto il giorno Ci sei solo tu? Nessuno sapeva dove fossi E ti stanno cercando Sì sono sola Non mi hanno lasciato dire niente E mi hanno rapita prima delle lezioni Quelle due bulle sono davvero crudeli Non posso crederci Sono davvero terrorizzata Grazie a te ora sono libera Non preoccuparti Andiamo subito dal professore Questo deve finire Sì dobbiamo raccontargli tutto Non possono passarla liscia Stavolta hanno fatto veramente una cosa terribile Sono rimasta chiusa in quel bagno per non so quanto tempo Ora andiamo subito a cercare il professore Georgia cosa è successo? Perché non eri in classe? Le bulle professore mi hanno chiusa nel bagno Non potevo uscire Cosa? Come hanno potuto farlo? È un comportamento gravissimo Non è come sembra prof Stavamo solo scherzando Sì non volevamo farle del male Era solo un gioco Un gioco? Mi avete rinchiusa lì per ore Voi non state bene Siete proprio cattive Anche a solo credere di star scherzando Che non stavano scherzando Fare una cosa del genere Bisogna essere proprio meschini Non c'è nulla di divertente In quello che avete fatto È bullismo Non volevamo esagerare prof Ci scusiamo Mi dispiace ma le scuse non bastano Avete oltrepassato ogni limite Ma prof è stato solo una volta Non mi interessa la scuola delle regole E voi le avete in fronte Siete entrambe spulse Non tollero questo genere di comportamenti Giorgio sei finalmente più tranquilla Sono contento che tutto sia finito Grazie Lorenzo non ce l'avrei fatta Senza di te Nicole E il prof Fortunatamente sono state spulse Quindi dovranno cambiare scuola Finalmente non mi romperanno più le scatole Sono felice che il prof abbia fatto giustizia Quelle due non meritano di stare qui Ah sì Erano diventate veramente insopportabili Non mi lasciavano mai in pace Ora non dovrei più preoccuparti di loro Finalmente sei libera Non avrei mai pensato Che mi avrebbero fatto del male in questo modo Chiudermi nel bagno Non è stata proprio la cosa più bella del mondo Hai dimostrato più coraggio di quanto credi Sei stata incredibile Beh ma sono così felice Che tutto sia finito E ti meriti di vivere le tue giornate in tranquillità Senza paura Grazie davvero Hai fatto molto per me Non mi dimenticherò mai Che mi hai difeso con loro La rifarei mille volte Giorgia Sei una ragazza fortissima E adesso è tempo di guardare avanti Finalmente Senza di loro Bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Se ancora non lo siete E attivate la campanellina Per non perdervi nessuna notifica Dei video Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.